Finiamo la puntata con la consueta prova su strada, le impressioni di guida insieme alla nostra Lilia Marcucci, questa volta abbiamo avuto l'occasione di guidare la Dacia Sandero e nel prossimo servizio vi diciamo cosa ne pensiamo di questa macchina di cassa Dacia. In questa puntata di Motor News vi offriamo le impressioni di guida della Dacia Sandero che insieme a Lilia Marcucci abbiamo avuto l'occasione di guidare. La nuova generazione della Sandero è il cavallo di battaglia del segmento B della Dacia, il marchio low cost di Renault che con questo nuovo prodotto ha fatto un ulteriore passo avanti sia nello stile con un look più moderno che nella tecnologia adottando ora l'ultima evoluzione dei motori Renault. La Sandero che abbiamo guidato insieme a Lilia era equipaggiata con il motore benzina da 898 centimetri cubi in grado di sviluppare una potenza di 90 cavalli e dotata del cambio manuale a 5 rapporti. Questa nuova proposta della casa rumena gode di linee più moderne ed equilibrate che risultano più gradevoli nell'insieme. Profili arrotondati ben integrati tra il frontale con grande mascherina al centro della quale tronneggia il marchio Dacia, parabrezza più inclinato e aerodinamico e linee laterali più rotonde di quello precedente. Gli interni sono molto razionali e non manca nulla, ma come filosofia del marchio non c'è spazio per nessun tipo di lusso e nemmeno per accorgimenti superflui. Il posto guida è confortevole e i sedili sono avvolgenti, costruiti in tessuti di buona qualità, mentre il volante è grande e morbido, ma di buon rapporto di demoltiplicazione che si sente al momento di affrontare curve strette o tornantini. La plancia è costituita da due bocchette d'aria nei laterali più altre due ai lati del climatizzatore, con il display touchscreen da 7 pollici posto al centro e dal quale si accede al navigatore satellitare, radio e computer di bordo. Risulta scomoda la posizione degli alzacristalli e dell'inserimento del cruise control, posti sulla plancia in basso, mentre la leva del cambio è lunga, ma gli innesti e i rapporti sono buoni e permettono di guidarla nelle diverse situazioni del traffico, in modo particolare quello urbano, dove bisogna sempre avere la coppia per districarsi attraverso tutte le difficoltà. Sicuramente il punto di forza è il nuovo motore Renault, molto parco nel consumo e che ci ha dato valori di consumo di 6,80 litri per 100 km nel ciclo urbano, 4,30 litri in quello extraurbano e 5,20 litri per 100 km nel ciclo combinato, valori molto buoni per un motore di piccola cilindrata che accelera bene ed è sempre pronto a reagire quando il conducente lo richiede. L'assetto dell'auto invece è quello di un tranquillo padre di famiglia, con sospensioni che trasmettono certi movimenti di rollio e beccheggio durante la marcia, ma che allo stesso tempo mette in guardia il conducente di quello che potrebbe succedere, con una leggera tendenza al sottosterzo e bisogna dire che se si esagera interviene bruscamente l'ESP. Abbiamo notato insieme a Lilia una discreta insonorizzazione e di fatto nelle continue accelerazioni necessarie nella marcia urbana il motore si fa sentire anche se non in modo esagerato. Nel contempo sia conducente e passeggeri hanno uno spazio vitale buono e non manca nemmeno una buona capienza del bagagliaio. La Dacia Sandero che abbiamo guidato insieme a Lilia viene offerta in listino al prezzo di 10.050 euro chiavi in mano. In questo modo finiamo la puntata numero 15 dell'anno 2013 di Motor News, non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti. Grazie.